ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica riders of the lost film questa volta andiamo molto indietro andiamo al 1941 quando uscì in italia piccolo mondo antico film drammatico diretto da mario soldati con protagonista alida valli e massimo serato ne parlo con grande piacere con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo ciao giulio buona giornata a tutti quanti fin del 1941 questo dicevamo tratto dal romanzo omonimo di antonio fogazzaro un libro che quando eravamo ragazzini alle scuole medie ci costringevano a leggere e che invece si faceva un po fatica a recuperarlo in televisione quindi però insomma l'avremmo visto volentieri al cinema piuttosto che leggere il libro ma di cosa 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 racconta questo film allora siamo nel nell'italia del dell'ottocento per l'esattezza nel 1850 quindi in pieno risorgimento e la storia vede protagonista luise franco luise interpretato da lida valli e franco interpretato da massimo serato sono una una coppia ma franco ha una vita anche un'altra vita nel senso che si fa trascinare dai moti rivoluzionari che stanno scoppiando in italia in quel periodo le sue origini sono anche abbastanza popolari e questa cosa non è non è gradita assolutamente dalla famiglia di luisa che in realtà invece viene da tutt'altro origine una famiglia altolocata nobile che anche dei rapporti con lo stesso governo austriaco che governa l'italia in 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 quel periodo la loro storia d'amore è molto travagliata riescono a però a sposarsi nonostante il dispiacere della della famiglia di luisa hanno una figlia e un giorno un giorno come tanti siamo sul lago di como specifico la figlia di luisa e franco muore affogata nel nel lago questo crea un grande dispiacere dolore in tutto sia ovviamente nei due eh coniugi ma anche nel nel nella famiglia di eh di luisa che ehm per ca per questo eh evento eh nutra ancora più odio nei confronti di eh di franco ma succederà una una cosa nello sviluppo del film che farà eh così eh riappacificare l'amore contrastato tra luisa e franco e soprattutto franco potrà liberamente tornare a dedicarsi alla alla politica ai momenti e ai movimenti risorgimentali che stanno scoppiando in quel periodo con il il l'accordo e il il piacere della nonna allora da un regista torinese eh appunto come Mario Soldati è un film che fu girato completamente uno dei pochi film eh dell'epoca che venne girato completamente negli stabilimenti cinematografici di Fert di Torino che erano degli stabilimenti cinematografici diciamo così un po' più piccoli rispetto a quelli che si conoscevano in Italia che invece permettevano di girare con quelli di Cinecittà per intenderci o quelli di Milano dove invece si giravano la maggior parte dei film e questo è stato già una delle delle cose un po' particolari che così riguardano un film che si vende premiato anche grazie all'interpretazione di Alida Valli. Sì una bellissima interpretazione eh di un anche di un personaggio eh molto complicato e lei lo lo rende molto bene e eh ripetiamo un film del del 41 quindi magari visto adesso a distanza di eh quasi anzi 80 anni esatti eh ha ancora un un suo significato ovviamente ha dei tempi e dei ritmi decisamente diversi da quelli che siamo abituati a oggi ma eh il lo lo sviluppo della storia e soprattutto l'intreccio tra i tre personaggi è uno schema utilizzato anche oggi. Un altro motivo per cui abbiamo voluto recuperare questo questo film è non solo per il fatto che è tratto appunto dell'omonimo romanzo di Antonio Fogazzaro ma eh la storia è anche un permette di dire un piccolo bigino tra due grandi classici della della letteratura. Da una parte abbiamo quello che è un archetipo di Romeo Giulietta perché la storia tra eh Luisa e Franco ha quelle radici e dall'altra parte il contesto storico in cui è sviluppata è collegato molto ai promessi sposi di Manzoni. Quindi nel vedere questo questo film che è molto interessante si vedono anche questi questi due aspetti ben sintetizzati in un film di poco meno di poco più di cento minuti. Sì ehm due parole anche sugli interpreti perché oltre ai Davalli che tra l'altro all'epoca vinse anche il premio come miglior attrice Venezia per questa interpretazione e tra l'altro era anche la sua prima interpretazione drammatica eh la partecipazione di Serato che era uno insomma degli attori dell'epoca uno dei belli un attore importante e poi secondo me non bisogna dimenticare il personaggio di Ada Dondini che è la marchesa terribile marchesa spietata un'attrice straordinaria di teatro qui prestata al cinema che insomma è quella che fa un po' la differenza. Sì 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 assolutamente è uno dei tre dei tre personaggi principali e il anche la sua capacità un po' di eh manovrare i personaggi è molto ehm molto interessante è un quella che oggi chiameremo una 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 malefica una una cattiva un un personaggio molto molto sfaccettato e che si muove sempre nel nell'ombra. Aggiungiamo anche che il 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 film ha diversi sceneggiatori tra questi eh ricordiamo Alberto Lattuada il quale eh non solo firma la sceneggiatura ma anche aiuto regista di soldati per per questo film. È Piccolo Mondo Antico questo di Mario Soldati film del 1941 con Lida Valli protagonista andatelo a rivedere perché è un film che ci permette di riscoprire un po' la nostra alcuni paesaggi molto belli della nostra Italia un pezzo della nostra storia un pezzo della nostra letteratura. Per questo appuntamento è tutto come sempre grazie a Pier Paolo ciao a tutti e alla prossima.